Musica Parliamo anche di animali, pensa un po', con Perretti e Costa Mentre cambiamo argomento con il numero 133, sala, sala Sala che dirà ma questi qua sono pazzi, parlano di cinghiali al via di un rally Eh, veramente No vabbè, è perché loro avevano l'adesivo con scritto cinghiali a bo Non abbiamo niente Voi non avete niente, infatti stavo guardando l'Ibrea in torsa Ecco, magari impegnatevi per avere qualche sponsor in più o no? Prossimo rally Prossimo rally, quanti ne hai alle spalle di rally? Tre, questo è il terzo, prima volta su queste strade Quindi contiamo di fare esperienza e di divertirci Quali sono stati i rally precedenti? Il Due Laghi l'anno scorso, è passato più di un anno E il Valle Solane l'anno scorso E l'anno scorso? Ah, quindi questa è la prima gara dell'anno E tra un mese sicuramente il Due Laghi ci sarai? Probabilmente Probabilmente sì, quindi gara di riscaldamento A fine anno insomma dai fuoco le polveri Sala e Sala hanno il numero 133 Andrea alla guida, Aldo alle note Anche per loro la dimensione corse è la scuderia Sala e Sala e Sala e Sala e Sala Sala e 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 Sala il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 no 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il sorriso è di quelli che hanno vissuto le fatiche di un rally Fatiche anche per i guasti tecnici ma ce l'hanno fatta ad arrivare in fondo Numero 133, li salutiamo e li concediamo Allora